La scheda si è conclusa con grande soddisfazione. Più di 800 appassionati del tallone libero hanno potuto godere di una settimana ricca di grandi emozioni e amicizia. Tanti eventi vissuti come il Sarraes Mattias, la festa Trepalina in Vallaccia, il Relax di Acquagranda Active View, la Speciosa all'Alpe Vago, e poi escursioni, buon cibo e tanto divertimento. Le montagne di Livigno sono state la cornice di una settimana speciale di amicizia e passione per la montagna. Ed ora, Quo Vadis la schieda? Il prossimo anno, la venticinquesima edizione, dal 30 marzo al 6 aprile 2019.